Proseguono gli allenamenti dei Rosso-Blu in vista della trasferta che domenica alle 15 li vedrà impegnati sul campo dello Stadio San Paolo di Napoli. Questa mattina la squadra ha svolto una seduta di allenamento a porte chiuse esclusivamente sul campo con una fase di Torelli, una fase di tecnica a coppie, una fase tattica e infine pale inattive.